Adesso sono contento, finalmente si sono ricordati di me, duemila anni ci sono voluti, perché la mia storia non aveva mai raccontato a nessuno, sì che sono un personaggio importante, uno che conta, ho inciso nella storia, ho avuto un peso prima, durante e dopo, mi hanno fatto santo, ci sarà un motivo, non è che fanno santo il primo che passa per strada, c'è un criterio di scelta, ma la mia storia non l'avevo mai raccontata, quella della Madonna sì, di Maria, quella di Gesù, ma la mia mai. Ah, ci tengo a precisare, il nome Gesù non l'ho scelto io, io preferivo Giacobbe, il nome di mio padre, era anche più, però loro si sono messi d'accordo così, mi piaceva Gesù, non è facile far cambiare idea, alle persone, Maria c'ha un carattere, ti raccomando, cocciuta, ve lo dico io, ma un fatto santo, mi sono dimenticato di presentarmi, mi chiamo Giuseppe, San Giuseppe, sono il padre di Gesù, padre, quasi. Grazie.